Siete pronti per il grande calcio estivo? 18esima edizione Beach Soccer T-Next Marina Piccola a Santa Maria di Castellabate. Dal 30 maggio al 27 giugno 2019, 16 squadre si affronteranno in un torneo di calcio unico nel Cilento Costiero. Oltre ai premi alla prima, seconda e terza classificata, premi al capocannoniere, miglior calciatore, miglior portiere, squadra Fair Play, squadra Simpatia e squadra Rivelazione. Termine iscrizione 28 maggio per info 393 67 80 287. Sponsor ufficiale del torneo T-Next www.tnext.eu Vi aspettiamo!